Noi abbiamo qua presente oggi un rappresentante del nostro governo, Maurizio Martina che è il sottosegretario del governo italiano incaricato del coordinamento per Expo. Una delle cose più complesse quando si organizza un evento come l'esposizione universale è coordinare tutti quelli che devono fare qualcosa per l'utilizzazione di questo evento. Questo incarico complesso e pesante è caduto sul sottosegretario del governo per l'Expo Maurizio Martina che presiede proprio il comitato ministeriale, il COEM che coordina tutte le attività dei ministeri, ma per di più è di Bergamo e ci ha proposto tempo fa di organizzare questo evento qua sapendo la capacità di ospitalità e l'attrattività della città di Bergamo la società Expo ha subito accettato in maniera molto entusiasta. Ma io voglio cogliere qua l'occasione per ringraziarlo non solo per essere qua ma per tutto il lavoro che finora ha fatto per aiutare me, i nostri colleghi e tutti noi a andare avanti nell'organizzazione dell'esposizione universale. Chiedo quindi a Maurizio di Martina di venire a darci il suo saluto. Intanto voglio salutare tutte le autorità presenti, ringraziarle dell'attenzione che hanno rivolto a questo importante appuntamento, ringraziare la Camera di Commercio, il Comune di Siamo la Provincia. Ringraziare Società Expo, il dottor Gatti, il dottor Sala, perché quando abbiamo iniziato a immaginare questo appuntamento abbiamo subito trovato interlocutori molto attenti, molto disponibili. Peraltro questa è l'ultima tappa di un lavoro che il territorio ha fatto in questi anni e penso che possa coronare alla perfezione un impegno che questa realtà ha sempre avuto su Expo, con la consapevolezza che provavamo giustamente a raccontare prima, cioè che oggi siamo nelle condizioni di osare di più, di cercare di più il rapporto con un grande appuntamento come quello che a pochi chilometri da qui l'Italia ospiterà con Milano. Io voglio semplicemente confermarvi l'attenzione, la convinzione profonda del Governo italiano a questo grande appuntamento, per questo grande appuntamento. Il Governo italiano non ha mai fatto mancare il proprio contributo di risorse economiche, ma anche di attenzione vera a Expo Milano 2015, l'ha fatto in questi mesi, devo dire, con molta insistenza. Non devo parlare del lavoro che ho fatto io, voglio però con questa occasione, riconoscere senza alcun dubbio il lavoro enorme che ha fatto il Presidente del Consiglio uscente, l'Onorevole Letta, in questi mesi. È stato un protagonista assoluto del lavoro robusto che l'Italia ha sviluppato in questi mesi per portare al massimo livello l'occasione di Expo come occasione nazionale, come occasione europea, perché il cambio di passo che abbiamo misurato soprattutto nelle ultime settimane dal lato dell'impostazione italiana si è tradotto innanzitutto in una grandissima consapevolezza anche in ambito europeo dell'occasione che l'Esposizione Universale di Milano può costituire per tutta l'Unione. Lo dico perché noi crediamo molto nell'appuntamento di Milano, crediamo moltissimo nell'originalità della sperimentazione che voi vivrete con i cluster. Come sapete i cluster sono il tratto di novità assoluto che l'esposizione universale che noi ospiteremo offrirà al mondo, non più una rappresentazione classica di alcuni paesi, di alcune realtà, secondo gli standard diciamo che abbiamo ereditato fin qui con le vecchie esposizioni, ma una vera e nuova innovazione, un'idea nuova di incontro tra produzioni, modelli produttivi, esperienze territoriali attraverso questa grande novità dei cluster. Noi poniamo molta attenzione su questa sperimentazione, non a caso come sapete il governo italiano ha stanziato anche significative risorse per consentire a diversi paesi di poterci essere, stiamo parlando di una cifra vicino ai 100 milioni di euro per poter sviluppare nel completo questa grande esperienza originale. Insisto su questo perché secondo me il mondo, i visitatori che arriveranno a Milano e saranno tantissimi, secondo me davvero troveranno negli spazi che voi animerete l'elemento originale, il tratto innovativo che l'Italia offrirà con la sua esposizione. Ci crediamo perché siamo anche consapevoli del fatto che attraverso questi spazi noi potremo aiutare tutti ad evidenziare le innovazioni, i tratti originali, gli elementi diciamo di distintività che ciascun paese può portare attorno al grande tema di Expo. Nutrire il pianeta energie per la vita è un tema che noi stiamo scoprendo mano a mano e vogliamo enfatizzare di più. Spesso se ne parla ancora poco ma noi abbiamo per le mani con questa esposizione universale un grandissimo tema che farà la differenza da qui ai prossimi anni nelle relazioni internazionali. Sarà il vero campo di prova che ridefinirà anche i rapporti di forza tra aree geografiche del mondo. Il fatto di poter sperimentare in particolare con voi, con i cluster, un incontro sui modelli produttivi, sulle filiere, sulle esperienze proprio agroalimentari più importanti che voi potete rappresentare, a mio avviso costituisce un elemento che segnerà non solo il ricordo di chi come noi è attento alla preparazione dell'evento ma soprattutto l'attenzione di chi visiterà l'appuntamento di Milano 2015. Quindi io voglio ringraziarvi per quello che già avete fatto e per quello che farete anche in questi tre giorni, in questi due giorni di lavoro intenso per progettare al meglio questi spazi. Voglio farvi un invito, è già stato fatto dal sindaco, dal presidente della Camera di Commercio, tornare a Bergamo e ingaggiare con questa straordinaria realtà un rapporto vero, fatto anche proprio di relazioni, di relazioni culturali, turistiche, ricettive, imprenditoriali. Noi abbiamo tanto da offrire. Questa, come è stato detto prima, è una terra straordinaria. Se posso rappresentarla con un simbolo, giustamente la prima personalità che mi viene in mente e che credo possa venire ricordata da tutti è proprio il Papa Giovanni XXIII. E questa è la sua terra. Penso che in questo voi possiate riconoscere anche lo spirito di noi bergamaschi, l'attenzione che abbiamo alle relazioni umane e anche una grande capacità di ingaggiare appunto un rapporto, soprattutto quando si tratta di fare delle cose. Credo che questo sia il messaggio più importante che noi possiamo portarvi con l'augurio e la speranza che voi possiate veramente tornare qui e sicuramente con la certezza, al di là di quello che ciascuno di noi farà, di ritrovarci in Expo Milano 2015 per vivere un'esperienza magnifica per tutti. Grazie. Grazie. Grazie.